La Regione Abruzzo ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso un'istanza del Dipartimento della Protezione Civile, la dichiarazione dello Stato di emergenza in ordine alla problematica connessa ai gravi ed estesi incendi che hanno colpito il territorio del Comune dell'Aquila dal 30 luglio scorso. Si tratta di un atto maturato considerando le attività e le risorse umane e materiali messe in campo dalle strutture del sistema di protezione civile per il superamento della fase di emergenza, nonché per prevenire gli scenari futuri come l'aumento del rischio idrogeologico nell'area interessata dagli incendi.